Il valore simbolico delle frecce tricolori è enorme, è enorme perché ormai l'abbiamo caricata di tanti di quei valori. Allora, le frecce tricolori rappresentano un'eccellenza italiana, la più grande pattuglia numericamente parlando del mondo con una serie di figure da mille e una notte e è simbolo dell'unità nazionale ed è simbolo dell'enorme valore della squadra. La pattuglia quando cerca i personaggi che poi l'andranno a comporre, molto spesso non cerca il grande manico, scusate il termine ma molto significativo, cercano soprattutto la persona brava ma la persona che sa collaborare con gli altri. Per cui il valore della squadra è eccezionale, l'unico che si distacca un po' è il solista ma che prima ha fatto parte della squadra. Quindi è un simbolo nazionale a tutti gli effetti.